Il prossimo weekend per i vibonesi non sarà importante solo perché Sabilli irachici governerà per i prossimi anni, ma anche perché la città sarà invasa da centinaia e centinaia di atleti provenienti da tutta la penisola per la Coppa Italia di Kickboxing, uno dei tre maggiori appuntamenti che questa disciplina annovera in un anno e dal quale dovranno uscire i componenti della nazionale che difenderanno i colori azzurri agli europei di Polonia prima e il mondiale in Turchia a settembre. Il Kickboxing, malgrado non sia molto conosciuto dal grande pubblico, è uno sport molto praticato in Calabria e soprattutto nel Vibonese, dove l'ASD Thunder Pizzo, che insieme all'amministrazione comunale di Vibo Valenza ha organizzato questa due giorni, può annoverare circa 20 campioni italiani e una decina di campioni mondiali ed europei in soli 35 anni di attività. Addirittura Luisa Lico detiene il record difficilmente battibile di campionessa mondiale ed europea per la categoria 50 kg. titoli conquistati ininterrottamente per 10 anni. Siamo riusciti ad ottenere l'evento grazie alla fiducia che è accordata dalla federazione all'ASD Thunder Pizzo, che negli anni si è messa in mostra proprio nel settore organizzativo degli eventi, quindi hanno riposto questa fiducia su di noi, dell'ASD Thunder Pizzo, per l'organizzazione della Coppa Italia nel nostro territorio. Saranno 835 gli attretti tra i 10 e i 40 anni che si cimenteranno sul tatami del Pala Valenza, sabato pomeriggio e per l'intera giornata di domenica alla conquista dei titoli cadetti juniores e signores, sia maschili che femminili. Insieme a loro anche in tutta la federazione nazionale, gli allenatori, gli osservatori e molti parenti, oltre 2.000 persone che hanno già decretato il sold out in tutte le strutture alberghiere della zona, con una ripercussione economica notevole per il territorio. Veramente un'edizione eccezionale, proveniente da tutte le regioni d'Italia, la Regione Calabria con le proprie società affiliate sta sfruttando questa manifestazione per aderire in massa, quindi avremo la possibilità di svolgere questo evento nel nostro territorio.